La riqualificazione di Piazza Redi questa volta incassa l'ok del Consiglio Comunale. La mozione presentata dal consigliere della Lega Dario Andreolli ha trovato lunedì sera il consenso di una approvazione all'unanimità dopo che lo scorso luglio la stessa tematica fu bocciata per 14 voti contrari della maggioranza. Questa volta la mozione ripresentata con alcuni accorgimenti è stata emendata assieme al capogruppo di Forza Pesero un gran bel po' Luca Pandolfi, tutti d'accordo su un potenziamento degli interventi di manutenzione, su una pavimentazione ammalorata a 20 anni dalla sua realizzazione e sulla riqualificazione dei porticati organizzando un tavolo di confronto con i condomini proprietari di un'area che è privata a differenza della piazza che è pubblica. Una riqualificazione in senso non solo estetico ma anche in senso funzionale fa incrementare anche tutti quelli che sono le altre problematiche connesse a quello, la problematica legata al commercio, la problematica legata alla sicurezza, la problematica legata al decoro, la problematica legata alla vitalità che ne può conseguire da un usufrutto maggiore da parte di tutta l'utenza. Non si parla di una zona degradata e io non l'ho mai pensato, non l'ho mai pensato perché voglio dire fondamentalmente il contesto urbano e il contesto sociale di tutto il quartiere di Monte Granaro si può dire tutto tranne che sia degradato, ma è una zona che bisogna tenere monitorato e dove un'azione di qualità incide sicuramente in senso di socialità e di conseguenza di sicurezza e di controllo. Non solo Piazzaredi, un'altra mozione approvata all'unanimità è stata quella dei consiglieri del gruppo PD, Anna Maria Mattioli e Nicola Sblasi in merito al ripristino del museo diffuso a Novilara sul sentiero di Santa Croce. Un percorso culturale e naturalistico che unisce il sentiero all'Acquedotto Romano e alla necropoli di Novilara che ha trovato la calorata approvazione anche degli assessori Daniele Vimini e Ai di Morotti che in tal senso hanno già presentato un progetto di valorizzazione che si inserisce nell'ambito dei finanziamenti europei PINQUA sulla qualità dell'abitare.